La fascite plantare è una patologia a carico del piede. Il termine fascite però è un termine non corretto, infatti il termine più appropriato in campo medico-sanitario è il termine fasciopatia. Questo perché studi hanno dimostrato come nella fascite plantare non sia presente un vero e proprio stato infiammatorio, ma bensì uno stato degenerativo. Pertanto il termine più appropriato è appunto termine come fasciopatia. Che cos'è la fascia plantare? La fascia plantare è una struttura similtendinea, dalla larghezza anche di 30 mm, molto resistente, che unisce la parte interna del calcagno con la parte terminale delle dita. Questa struttura ha la principale funzione di assorbire le forze in seguito ad uno shock e mantenere intatto l'arco longitudinale plantare. Come si può sviluppare una fasciopatia plantare? Essenzialmente la fasciopatia plantare può essere associata a deformità del piede, quale il piede piatto o cavo, oppure ad errori di allenamento, quale l'utilizzo di scarpe e rogore, oppure un aumento delle distanze eccessivo rispetto alla norma. Inoltre può essere associata a problemi quale una dorsiflessione di caviglia ridotta, ma anche una rigidità della muscolatura posteriore. Da ricordare anche l'associazione con un BMI, cioè con un soggetto sovrappeso, l'associazione tra soggetto sovrappeso e fasciopatia plantare, nel soggetto però non sportivo. Da ricordare inoltre come la fasciopatia sia una patologia tipica dei corridori, è la terza patologia che colpisce per frequenza i corridori, e sia un problema molto diffuso, se non una delle patologie più frequenti del piede, perché occupa circa il 15% dei casi che vengono in ambulatorio con un problema al piede, infatti. Come viene diagnosticata la fasciopatia plantare? La fasciopatia plantare viene diagnosticata a livello clinico, attraverso l'anamnesi, cioè la raccolta delle informazioni con il paziente, e con dei movimenti, dei test clinici che ne valutano la positività o la negatività. Essenzialmente il paziente riporterà in anamnesi un dolore presente al mattino o a freddo, nella parte interna del calcagno, che va diminuendo durante la giornata con il movimento e riappare solitamente alla sera o alla cessazione del movimento stesso. Cosa fa il fisioterapista di fronte a un caso di fasciopatia plantare? Il fisioterapista si occuperà inizialmente di una fase acuta, tramite l'utilizzo di bendaggi e consigli quali il ghiaccio o il riposo, di ridurre lo stato infiammatorio del paziente e il dolore locale. Successivamente, superata questa fase acuta, solitamente il paziente arriva dal fisioterapista non in una fase acuta, ma bensì in una fase cronica, dove il dolore è presente da molti giorni e porta dei problemi all'esecuzione dei movimenti normali nella vita quotidiana del paziente. Il fisioterapista si occuperà di ridurre il dolore tramite l'utilizzo di terapia manuale e di manovre appropriate, di limitare quelle patologie e quei problemi che possono incrementare la fasciopatia, come una dorsiflessione limitata di caviglia o la rigidità muscolare e in questo modo favorire il ritorno all'attività fisica, che spesso comporta dei periodi molto lunghi.